Da tutto quel che è scaturito al Peducin, da un punto di vista strettamente formale, emerge un aspetto. Non c'è il regolamento che veicoli l'accesso al mare vestiti o modalità simili che possono fungere da linea per la balneazione. L'assessore comunale al patrimonio Elisa Lodi, contattata telefonicamente, ha ammesso il vulnus esistente e quindi la confusione in cui ci si trova in questo momento nel gestire situazioni simili. Uno sforzo andrà fatto, ha continuato la Lodi, prendendo in mano tutti i documenti necessari per modificare o integrare il regolamento, sebbene la stessa abbia dichiarato che questa è attività per nulla semplice, poiché tocca aspetti sociali o religiosi molto delicati. Modifiche che a ogni modo non saranno operative nell'immediato, ma forse per il prossimo anno. L'Iter prevede che dopo una prima stesura sia il consiglio comunale ad approvare un nuovo regolamento, che quindi potrà essere passabile di diverse modifiche. Intanto a livello politico il consigliere regionale di Open Sinistra FWG Furio Onzel ha rilasciato una nota dove dichiara che si stanno ripetendo in regione, dopo Monfalcone e ora anche a Trieste, e odiosi episodi xenofobi nei confronti di donne musulmane. Il piano immigrazione Federica Roberti ha tagliato i fondi volti all'integrazione e alla reciproca tolleranza. Questi sono i risultati, ha detto Onzel. Andrebbe completamente rivista la norma regionale sull'immigrazione. Questi segnali indicano infatti che quanto viene fatto dalla regione in merito è totalmente inadeguato. Ognuno è libero di fare il bagno come ritiene giusto, ma è anche importante, conclude Onzel, spiegare educatamente che in un paese laico e libero come l'Italia ogni donna è libera di fare il bagno in costume molto più comodo che completamente vestiti. Differente l'opinione di Fabio Scocci Marro, assessore regionale all'ambiente di Fratelli d'Italia. Si può avere rispetto, come abbiamo rispetto quando andiamo nei paesi arabi, quando vai a Dubai hai delle regole molto stringenti e hai le tue libertà, ma devi rispettare la cultura islamica. Io ritengo che anche loro devono rispettare la nostra. Quindi quando certa sinistra si autoflagella, toglie il presepe dalle scuole, fa cantare i bambini al posto delle canzoni italizie Gesù, Peru, siamo al paradosso. Quindi io non vorrei che questa vicenda del bagno della lanterna venga sfruttata purtroppo una sinistra che non ha più argomenti, una sinistra che non fa più la sinistra, che non fa più l'interesse della popolazione. Abbiamo visto che il mondo si è ribaltato.